Amici di Raiuno, buongiorno e buon inizio di settimana. Benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Traffico meno intenso in questo inizio di settimana anche per via delle ultime disposizioni governative in relazione all'emergenza sanitaria in atto e a tal proposito vi comunico che rimane chiusa la strada statale 9 via Emilia per circa 20 chilometri tra il chilometro 268 e il chilometro 284 tra il casello di Piacenza e Segugnago in entrambe le direzioni. Il traffico comunque viene deviato in autosole. Per quanto riguarda le previsioni del tempo per oggi, comunicateci dall'aeronautica militare, indicano un nuovo peggioramento al nord ovest e dal pomeriggio su Toscana, Lazio e Sardegna e vi informo che in questo momento sta nevicando in Val d'Aosta al traforo del Monte Bianco ma anche sulla 5 Torino-Cormaier e sta piovendo in area Ligure. Ma vediamo la situazione, i consueti spostamenti pendolari, qui siamo sulla 4, come vedete traffico meno intenso e anche sul tratto capitolino della 24, anche qui come vedete non ci sono particolari difficoltà anche se ci sono code tra Portonaccio e Tangenziale Este e alla dilamazione di Roma a sud per un chilometro tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. Ci spostiamo ora dalla capitale in area Ligure perché si è verificato un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra il chilometro 44 e Albisola in direzione Genova. Ancora un altro incidente da questa mattina sta provocando difficoltà alla circolazione sulla 27 La Mestre Belluno tra Trevizzo Sud e il bivio della 4 Padova Venezia in direzione Venezia. E poi sulla 12 la Roma Civitavecchia segnalazione di un incidente tra Santa Severa e Cervetere in direzione della capitale. E infine per un grave incidente rimane ancora chiusa la strada statale 514 di Chiaramonte tra Casa Licciardi e Ragusa. Ecco queste al momento le notizie di maggiorilievo. Grazie per l'attenzione ed Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità. Guidate con prudenza, fate buon viaggio e a voi tutti un piacevole inizio di settimana. Linea Rai 1, arrivederci!